E' questa parziale dissociazione cui assistiamo tra la produzione dei rifiuti e gli indicatori socio-economici. E' la prima volta, dopo tanti anni, nel nostro Paese, e poi abbiamo assistito in realtà a una produzione della produzione dei rifiuti, per te che arriviamo ai dati del 2002, nel 2015, però è la prima volta in cui vediamo crescere il deal, cresce il consumo delle famiglie e per ogni volta i rifiuti diminuiscono. Allora, una prima valutazione su questo. Si tratta dell'attuazione di politica di prevenzione. Siamo usciti a mettere in campo delle azioni, delle risurde, dell'interno dell'ambiente. Abbiamo fatto un programma nazionale di prevenzione sulla prevenzione dei rifiuti, che pone negli obiettivi da raggiungere al 2020, in cui di riduzione associato agli indicatori socio-economici e quindi delle prime valutazioni che possiamo fare su questo. Un'altra valutazione è crescere la raccolta differenziata. Ma quello che interessa di più, perché di fondo la raccolta differenziata non ce lo dimentichiamo, è un strumento fondamentale che è stato da noi introdotto, grazie a Dello Ronchi, a cui dobbiamo riconoscere, diciamo con il Dello Ronchi, aver avuto questa felicissima intuizione, non ce l'aveva nessun paese, non ce l'aveva ancora di più nel 97, fissò i famosi obiettivi di raccoglie differenziata che poi man mano sono stati innalzati. Questi obiettivi in alcuni contesti territoriali sono stati raggiunti, in molti altri no, il gap è ancora evidente, ma quello che ci conforta è che quando andiamo a valutare l'obiettivo di riciclaggio, che è un obiettivo posto dalla direttiva del 2008-98, non siamo lontani, siamo al 46%, un 50% raggiungibilissimo a nostro avviso come ISPRA entro il 2020. Sapete che è stato approvato il 12enne del pacchetto rifiuti, che pone, diciamo, alcune prevede la revisione di importanti direttive in materia dei rifiuti, tra cui la direttiva del 2008-98, e quindi con un innalzamento di questi obiettivi di preparazione per l'utilizzo e il riciclaggio, che dovranno salire al 60% e poi al 65% del 2020. Allora c'è da interrogarsi, questa è un'altra domanda che io voglio porre ai relatori, visti questi dati, pensiamo che questo obiettivo sia raggiungibile nel nostro contesto territoriali. Altri obiettivi sono quindi l'imbalaggio, abbiamo già superato, avete visto, il direttore della prova, ha fatto vedere, quello del 60, abbiamo raggiunto oltre il 66% nel 2015, potremmo discutere qualche attrazione, c'è il discorso della plastica, lo meno sicuramente, credo, l'obiettivo tra, sicuramente, non nasce di mezzo, ma dobbiamo, vediamo che è lì un dato positivo, cioè avremmo raggiunto già quell'obiettivo che sarebbe posto al 2025. Abbiamo un dato positivo che è la riduzione del fattimento di riscaldi, non è poco passare dal 31 al 27%, ma è ancora alto, è un valore ancora alto. Questo obiettivo del 10%, fissato, se sarà, ma fissato, da questa remissione della normativa sui rifiuti, anche qui è riferito solo ai rifiuti urbani, perché dobbiamo dirlo che, come ha detto giustamente il Presidente, spesso ci concentriamo sui rifiuti urbani, ma poi sui rifiuti speciali, che sono una stragrande maggioranza, non poniamo la stessa attenzione. E' altro vero che, riguardo ai rifiuti speciali, sicuramente il nostro Paese è visto molto bene, tant'è che dal punto di vista del riciclaggio, siamo il primo, nel Comunità del 2014, il primo dei paesi dell'Europa 15. Quindi vuol dire che l'inforza degli strumenti efficaci, quale anche lo smettimento delle procedure amministrative, ricordiamoci le famigerate famose, come volete, procedure semplificate, hanno in qualche modo facilitato appunto il riciclaggio. Cioè il smettimento di scarica è veramente necessario, ma per il futuro urbano abbiamo questo obiettivo di ridurre al 10%, siamo a 27, a quanto riguarda i passi avanti, vorrei sentire ora dai relatori che cosa ne pensano. E' un'ottima cosa, forse un, come è stato detto, noi facciamo un studio molto approfondito sui costi, che non si fa quasi da nessun, cioè siamo i dettori di un'informazione che non ha in altri soggetti, da sempre approfondiamo il tema dei costi, approfondiamo anche l'analisi dei piani finanziari, è stato presentato il lavoro che facciamo anche sui piani finanziari, quindi mi inviterei a vederlo nella versore integrale, e noi abbiamo fatto un focus per la prima volta sui 155 comuni a tariffa puntuale. No, beh, non ci sentiamo, non abbiamo sposto delle valutazioni nei confronti, però vi invitiamo a valutarli, perché da una prima analisi ci serve sempre che questa applicazione, appunto poi della tariffa puntuale, porti come risvolto positivo una riduzione dei costi. Allora, questi un po' sono gli elementi che io potrei portare ai relatori, per sentire appunto che cosa ne pensano, che cosa pensano che Italia possa fare, quali strumenti, quali obiettivi ulteriori, quali norme possono essere messe in atto. Da ultimo, nel termine, nel collegato ambientale, perché ci piace anche fare una pubblicità, questo è il lavoro che fa l'ISPRA insieme al Sistema, con delle agenzie, nel collegato ambientale, è stato richiesto a ISPRA di lavorare dei criteri per individuare quali sono i rifiuti che non devono essere pretrattati prima di andare in un riscato. Bene, noi queste linee guida abbiamo questi criteri, non solo le linee guida, le abbiamo lavorate, le abbiamo lavorate con il concorso a conto delle agenzie, le abbiamo sul sito dell'ISPRA, e queste sono delle linee guida importanti perché dovrebbero, come una volta applicate, garantire però monogenità al sistema appunto della gestione dei rifiuti che è chiesta dagli operatori che chiedono null'altro che avere delle regole comuni, omogenee, sul territorio nazionale. Allora, io a questo punto mi ringraziare molto perché so che negli impegni è stata un po' stotta la partecipazione di Mariano, un pochino, comunque sta qui e io approfitto della sua disponibilità per dargli la parola.